La Torrese vuole riscattare il capitombolo verificatosi all'Aquila, ma dall'altra parte troverà un capistrello che dopo il successo in extremis con la Virtus Cupello si sta avvicinando sempre più alla zona playoff. Perciò ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara vincente. Torrese vicino al vantaggio dopo quattro minuti, sugli sviluppi di un corner battuto da Mastrilli e Antichi a deviare verso la porta, ma di Girolamo è bravo a salvare il risultato. La risposta degli ospiti arriva al dodicesimo. Gran botta su calcio di punizione dal limite di Fantauzzi e vola a bate a deviare in calcio d'angolo. Sul corner seguente estremo difensore di casa ancora protagonista, questa volta su Matrone. Al diciottesimo invece arriva il gol della Torrese su calcio di rigore, assegnato dal signor Sciubba per un atterramento ai danni di Santi Rocco. Dal dischetto va Antichi che spiazza di Girolamo e porta in vantaggio i padroni di casa. Il match è equilibrato, con entrambe le compagini che danno l'impressione di poter essere pericolose da un momento all'altro, come al quarantunesimo, quando Gentile conclude dal limite e di Girolamo è costretto a distendersi la sua sinistra per bloccare la sfera. Passiamo alla cronaca della ripresa, guidati dalle immagini di Flavio Forcellese. Al quinto Fantauzzi finisce a terra in area di rigore e Sciubba concede un penalty al capistrello. Dagli undici metri si presenta De Roccis, la cui battuta però va ad infrangersi sul palo la sinistra della porta difesa da Abate. Al dodicesimo Gentile libera il destro dal limite, ma la sfera finisce sopra la traversa. Ancora Torrese al ventunesimo. Contropiede concluso la Santirocco che si accentra ed impegna di Girolamo. Un minuto dopo si rivede il capistello, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo incorna l'argentino Brusca, che però non riesce a trovare il pari. Alla mezz'ora Grauberg fa tutto da solo, recuperando palla dopo un corner avversario, dando in là il contropiede, ma l'attaccante Estone non riesce a superare di Girolamo. Nel finale gli ospiti ci provano ancora, senza creare grossi grattacapi, alla porta difesa da Abate. Così la Torrese porta a casa tre punti importantissimi per consolidare la quarta posizione. Mister, le occasioni per trovare il pari non sono mancate, ma è arrivata una sconfitta che lascia qualche rammarico. Sì, lascia il rammarico perché penso che pure oggi abbiamo avuto maggior parte del possesso palla noi. Loro hanno trovato il gol sul rigore e poi abbiamo avuto anche noi la possibilità di segnare il rigore. La differenza sta tutta là. Noi non abbiamo fatto il gol, loro hanno fatto il gol. I ragazzi non improverono nulla, anzi, hanno messo tanto, abbiamo giocato con tanti fuori quota. Purtroppo ultimamente stiamo mancando, lo vado dicendo, tanto tempo, un po' davanti. Siamo un po' stelli davanti e questa alla lunga purtroppo si paga. Clementoni, tre punti importanti contro un avversario che si è confermato ostico. Sì, sì, assolutamente. È stata una partita dura, è stata una partita dove l'episodio a nostro favore ci ha, diciamo, regalato questi tre punti, ma siamo contenti perché sapevamo che Capistello era una squadra sicuramente organizzata, una squadra battagliera e l'ha dimostrato anche oggi e sono tre punti fondamentali.